Quando parliamo di diritto d'autore sulle fotografie ci dobbiamo confrontare con questa complicazione tutta italiana. L'ho chiamata così in questa mia slide perché effettivamente è una distinzione che esiste solo nel nostro ordinamento e in pochi altri ordinamenti. Vedete che c'è una distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia e la distinzione sta nella presenza o meno del cosiddetto carattere creativo. Il carattere creativo è l'elemento fondante del diritto d'autore e nel nostro diritto quindi dove c'è carattere creativo l'opera viene chiamata opera fotografica in senso pieno quindi come se fosse un'opera dell'ingegno ad esempio musicale, un'opera dell'ingegno letteraria, cioè un'opera che ha una tutela piena di diritto d'autore ed è quindi coperta anche dai cosiddetti diritti morali oltre ai diritti di utilizzazione economica e la cui durata è di 70 anni dalla morte dell'autore, sono tantissimi anni perché 70 anni dalla morte, vuol dire che bisogna attendere tutta la vita dell'autore e dalla sua morte contare 70 anni. Nel caso della semplice fotografia, cioè di una fotografia che è priva di carattere creativo, quindi una semplice fotografia realizzata per documentazione o per reportage senza un atteggiamento creativo, un carattere creativo, questa fotografia è tutelata da un mero diritto connesso, quindi una tutela minore, ovvero mancano i diritti morali, non c'è una tutela di diritto morale e la durata della tutela è di soli 20 anni dallo scatto, quindi la differenza sostanziale non è più 70 anni dalla morte ma è 20 anni dallo scatto della realizzazione della foto. Ovviamente qualcuno si chiederà come si possa vedere, verificare se ci sia carattere creativo, ovviamente questo è uno dei temi più delicati del diritto d'autore, dovremmo andare a sollevare un po' di, a leggere un po' di giurisprudenza, però ecco tenete presente, vi invito al massimo ad approfondire la definizione di semplice fotografia nell'articolo 87 della nostra legge sul diritto d'autore.